Ormai credo che siano tipo due o forse anche tre settimane che non mi siedo qua nel mio studio a registrare, alcunché. Sono le dieci del mattino e i vicini del palazzo di dietro hanno ben deciso di mettersi ora a fare il karaoke. Oggi, alle dieci del mattino. Una delle pochissime mattine libere che ho per sedermi un attimo qua. Vabbè, la mia sfiga con i rumori durante le mie registrazioni vi è ben nota ragazzi, per cui non poteva che ripetersi ovviamente questa mattina, giusto questa mattina, giusto questi dieci maledettissimi minuti che ho per spiegarvi un attimo perché sono sparita in questo periodo. Vive i vicini. Allora ragazzi, non ho fatto la mia intro solita perché insomma questa situazione ma effettivamente un pochettino ho fatto sbarellare, però a parte tutto ciao a tutti i ragazzi, anzi sarebbe meglio dire what hi a tutti i ragazzi da giocherina, benvenuti in questo nuovissimo video. Ebbene, quest'oggi sono qui appunto per spiegarvi perché da effettivamente diversi, diversi proprio giorni a questa parte io sia totalmente sparita. E ci faccio un video apposito ragazzi perché nonostante io abbia scritto un post a riguardo su YouTube comunque, e comunque nonostante diversi di voi lo abbiano visto, invece altrettanti di voi non lo hanno visto, non lo hanno letto e quindi sono venuti magari su Instagram a chiedermi appunto spiegazioni, sono venuti a chiedermi perché appunto io sia sparita da YouTube in questo periodo. E mi sembrava quindi più opportuno rubare dieci minuti di questa mia mattina libera appunto per spiegarvi ragazzi il motivo, quindi spiegarvi cosa sta succedendo nella mia vita attualmente ecco, e perché non sto effettivamente più caricando video e non sto più facendo live tra l'altro. La spiegazione ragazzi è semplicissima lineare, sto lavorando anche io, voi sapete che io e Rodrigo lavoriamo nella cucina di un ristorante e abbiamo ripreso da fine maggio, insomma da quando comunque è stato possibile effettivamente riaprire ragazzi ristoranti, bar, qualsiasi attività commerciale, diciamo di questo genere, da fine maggio. E tra l'altro vi dirò abbiamo ripreso anche a pieno regime, per questo che anche io sto lavorando, noi effettivamente avevamo il dubbio che io rientrassi a lavorare, perché comunque di personale ce n'è anche se effettivamente non abbastanza, però pensavamo che magari non ci sarebbe stato bisogno anche delle mie due mani in cucina, pensando che comunque non si sarebbe lavorato moltissimo, visto ragazzi la situazione del covid, vista la quarantena, vista la crisi che si dice esserci attualmente, quindi pensavamo che effettivamente io per ora perlomeno non sarei rientrata a lavorare, invece così non è stato ragazzi, perché sono rientrata a lavorare anche io praticamente dall'ultima settimana di maggio direttamente, quasi come prima all'inizio, diciamo un po' più sporadicamente, dopodiché da quando ho cominciato a fare caldo ragazzi, quindi ha incominciato ad esserci la meravigliosa bella stagione che conosciamo tutti come estate, che effettivamente forse da un annetto a questa parte, forse qualcosina di più, sto odiando con tutta me stessa, piccoli dettagli, da quando quindi ha ricominciato a fare caldo, la gente ragazzi evidentemente non potendone più di dover restare a casa, perché porca miseria dover stare a casa, insomma ragazzi tre mesi chiusi, wow che faticaccia, perché la gente proprio le mura di casa se la mangia, se la mangia proprio, quindi non facendocela più evidentemente, c'è stata un'esplosione ragazzi, perlomeno qui da noi, c'è stata un'incredibile esplosione, cosa che appunto noi non ci aspettavamo, invece è stato così, nel senso che stiamo lavorando tantissimo ragazzi, veramente tantissimo, noi crediamo forse anche un po' di più rispetto all'anno scorso, per quanto comunque i posti, ovviamente ragazzi, i coperti, siano comunque di meno, perché ovviamente a causa delle norme, norme ovviamente anti-covid, ci sono comunque meno posti a sedere, nonostante questo, stiamo lavorando più dell'anno scorso, nel senso che comunque ogni santo servizio ragazzi che facciamo, pranzo o cena, pranzo o cena, viene sempre un sacco di gente, sempre un sacco di gente, non da un lato non riusciamo a capire da dove esca tutta sta gente, visto che c'è gente che si lamenta del fatto che sta quarantena, è stato un salasso economico assoluto, da noi si riempie praticamente quasi sempre, considerate che non è tipo un ristorante molto economico, nel senso che il nostro ristorante è di pesce ragazzi, perché noi siamo proprio sul mare, quindi un ristorante di pesce non si può paragonare al livello di prezzi, diciamo così, per quanto comunque non sia caro, perché non è caro, non si può paragonare a quello ovviamente tipo di una pizzeria, per esempio, e nonostante tutto, nonostante tutto, regà, si riempie, si riempie sempre, meno male, ovviamente da un lato, perché questo ci assicura il lavoro, ma si riempie ogni santo servizio, è una cosa ragazzi veramente allucinante, e quindi, visto queste premesse, mi è stato chiesto dalla mia titolare di andare, e quindi tutto sto immenso preambolo ragazzi, io come sempre poi mi dilungo tantissimo nelle cose che dico, per quanto io prima di registrare il video mi riprometta di essere sintetica, a quanto pare non ci riesco, quindi tutto questo enorme preambolo per dirvi che, quindi spiegarvi perché sto lavorando così tanto, perché vista la quantità di gente ragazzi che viene, sia a pranzo che a cena, sia a pranzo che a cena, mi è stato chiesto dalla mia titolare di andare a lavorare anche dei pranzi, perché io prima, ragazzi prima della quarantena, lavoravo solo ed esclusivamente le sere, quindi facevo soltanto i servizi di cena, e quindi ovviamente avevo tutte le mattine libere, per dedicarmi ai video, per dedicarmi alle live, questo era il punto della situazione pre quarantena, situazione post quarantena, non ce l'aspettavamo, si riempie sempre, la mia titolare quindi ovviamente, mi chiede di andare a lavorare anche dei pranzi, che potevo fare? Dicevo di no, ovviamente non potevo dire di no, perché comunque mo ci vuole per noi, perlomeno ragazzi, sta quarantena veramente è stata un salasso, noi ne siamo usciti veramente distrutti economicamente da questa quarantena, a differenza di molta altra gente che si lamenta, nonostante tutto, va in giro, va al mare, va in vacanza, va a mangiare eccetera eccetera, noi ne siamo usciti veramente devastati, e quindi non potevo dire no guarda i servizi di pranzo non vengo, ovviamente ragazzi sarebbe stato stupido, e quindi questo è il motivo ragazzi della mia assenza attuale da youtube, da twitch, da qualsiasi cosa, il fatto che sto lavorando come un animale, quindi sia ai pranzi che alle cene, considerate che settimanalmente ragazzi di pranzi ne ho liberi due, il lunedì e il giovedì, ecco perché oggi sono qui a registrare questo video, quindi immaginerete che avendo soltanto queste mattine libere ragazzi, a volte ho degli impegni da sbrigare che mi portano fuori di casa, quindi per forza di cose, altre volte magari o comunque non ho voglia ragazzi, vi dirò sinceramente, perché comunque quelle poche ore libere che ho, ovviamente non mi viene, non mi scatta insomma quella cosa in testa, che mi fa dire ah sì mi siedo altre 3-4 ore, per registrare ed editare un video, io spero che voi capiate ragazzi, questa mia condizione mentale attuale, ma è così, io sapete benissimo, sono sempre sincera, quindi preferisco sempre dirvi la verità, quindi a volte non mi viene voglia, quindi a volte preferisco usare la mattina libera che ho, quindi o per sbrigare altri impegni, per forza di cose, oppure per dedicarmi alla casa, sbrigare le varie faccende e tutto il resto appresso, che quindi è una cosa che più mi rilassa ecco. E quindi la mia condizione attuale ragazzi è questa qua, nel senso che sto lavorando tantissimo, e quelle pochissime ore che ho a disposizione libere, ovviamente o le impiego per altro, oppure preferisco un attimino riposare il cervello ragazzi, perché sto lavoro è assolutamente devastante, è veramente stressante ragazzi, ma non tanto a livello fisico, nel senso che ci si stanca anche a livello fisico ovviamente ragazzi, ma la stanchezza è più quella mentale, perché non sapete raga che significa comunque stare dentro con la cucina, mattina, sera, considerate che noi entriamo al lavoro alle nove e mezza di mattina, nove e mezza di mattina, usciamo alle tre e mezza del pomeriggio, per poi rientrare alle sei e mezza e uscire alle undici e mezza, quindi praticamente passiamo tipo undici ore, più o meno, undici ore della nostra giornata dentro quella cucina, e a volte succede che siamo pure uno in meno, proprio dico a livello di personale ragazzi, e quindi ci sono alcuni servizi che facciamo con una persona in meno, e non avete idea ragazzi di che cosa significa, proprio a livello di stress mentale, è difficile da sostenere, quindi in sto periodo sono pure abbastanza un po' fuori diciamo dal mondo, un po' fuori da quello che era il mio mondo, fino a prima che cominciassi a fare tutti sti turni, e quindi mi si è sballato praticamente tutto ragazzi, tutta la mia routine, la mia quotidianità, le mie abitudini, le cose che facevo ovviamente nel senso il mio lavoro, tra virgolette su youtube, le mie live su twitch, il modo in cui mi organizzavo la giornata, che facevo le mie faccende, mi si è sballato assolutamente tutto, e quindi in sto periodo sono pure un pochettino, svalvolata, proprio sinceramente ve lo dico, con la testa sto un po' così, un po' così, non dico male ragazzi, ma vi assicuro che lo stress è tanto, è vero, io adesso lo sottolineo prima che qualcuno me lo scriva in commento, per fortuna che si sta lavorando, per fortuna che venga gente, per l'amore del cielo ragazzi, questo lo ripeto sempre, per fortuna che viene gente, per fortuna che si lavora, questo significa comunque un ingresso economico, ci mancherebbe pure, ma lasciatemi il diritto a dire ragazzi, che è un lavoro devastante, veramente devastante, perché noi l'estate ragazzi siamo proprio sul mare, abbiamo anche la terrazza fuori, coi tavoli fuori, quindi ovviamente non solo la sala dentro, ma anche i tavoli fuori, quindi il lavoro si raddoppia l'estate, quindi se già di solito è un pochino stressante, l'estate è assolutamente devastante, poi tra l'altro con 40 gradi all'ombra fuori, immaginate dentro una cucina ragazzi, che cosa significa, coi fuochi, il forno, tutto il calore che si crea là dentro, regà, io penso di non aver mai sudato così tanto in vita mia, quindi permettetemi ragazzi, lasciate, insomma datemi il diritto, di dire che è un lavoro assolutamente devastante, che sinceramente non consiglierei a nessuno di fare, a meno che proprio non c'è una passione, che ne so, però è dura, è veramente dura regà, e ti mette alla prova, sicuramente mi sta mettendo moltissimo alla prova, probabilmente sta temprando anche un pochettino il mio spirito, la mia persona non lo so, perché io sono una persona molto poco paziente solitamente, quindi per certe situazioni che si creano lì dentro, non pensavo di poter essere così paziente, e quindi a volte mi stupisco anche di me stessa, nel modo in cui mi comporto, nel senso che comunque cerco sempre di essere ovviamente ragazzina, persona retta, corretta, rispettosa, ma vi giuro che ci sono certi momenti ragazzi in cucina, che si creano di stress, che davvero mettono alla dura prova proprio, la pazienza e la propria sanità mentale, quindi io non so come uscirò, alla fine di quest'estate, a livello di sanità mentale, probabilmente, perché già di solito ne ho poca, insomma, perché sapete io che sono tipo un pochettino, così un pochettino strano, fine estate probabilmente quel briciolo di sanità mentale che avevo, lo avrò perso totalmente del tutto, quindi non so come andrà a finire tutto questo, però insomma ragazzi, io vi chiedo scusa se appunto sono entrata così tanto nei dettagli, nel senso che vi ho descritto un attimo proprio com'è la mia situazione lavorativa, alla mia situazione attuale, però volevo proprio che capiste un attimino cosa significa quello che sta succedendo in questi mesi, ecco lì al lavoro, per farvi un attimo capire ragazzi, anche se comunque se non si vive una situazione, non si potrà mai effettivamente capire cosa quella situazione significhi, ma fate ragazzi un piccolo sforzo prima di dirmi, eh ma te che ti lamenti, per fortuna te che c'è il lavoro di qua di là, quindi prima di dire così ragazzi, ricordatevi che ho detto, per fortuna certo che stiamo lavorando, ma concedetemi il diritto di dire che è devastante, tutto qua, quindi prima di qualsiasi cosa per favore, perché insomma non faccio altro che sentirmi dire sempre, eh ma ti lamenti soltanto, ringrazio il cielo che è il lavoro di qua di là, e questo è il punto raga che mi devo spiegare sempre diecimila volte, perché la gente non capisce quello che voglio dire solitamente, quindi io non è che mi stia lamentando del fatto che sto lavorando, mi sto lamentando semplicemente del fatto ragazzi, per dire insomma che è dura, ecco che è un lavoro duro, è un lavoro devastante ragazzi, quindi cercate un attimo di capirmi, ecco di capire il mio status mentale attuale, perché io mi rendo conto che non è facile capirlo, ripeto se non avete mai vissuto una situazione del genere, però cercate un pochettino di entrare ragazzi nella mia testa attualmente, per quanto io vi sconsigli di entrarci probabilmente, quindi niente volevo che capiste un attimo ragazzi come il mio stato d'animo attuale, probabilmente sto video voleva essere anche un attimo uno sfogo forse personale, a livello inconscio, perché spesso appunto spesso ragazzi quando parlo di questo mio status attuale, mi sento soltanto dire sempre le solite cose, non mi sento mai compresa del tutto, quindi io spero che dopo avervi spiegato insomma diverse cose, voi possiate un attimino comprendermi, comprendere insomma appunto questa mia condizione attuale, sto continuando a dilungarmi, mi rendo conto ragazzi, ma vi renderete anche conto che è tantissimo tempo che non faccio un video del genere, quindi probabilmente appunto ho bisogno un attimino di parlarvene, probabilmente non ve ne frega uno stracazzo di tutto ciò, però insomma volevo un attimino soltanto chiarire questa situazione, e farvi quindi capire perché, perché sono assente da YouTube in questo periodo, e comunque ragazzi chiedervi di aspettarmi, tra virgolette, nel senso che comunque molto probabilmente quando l'estate finirà, quindi penso a partire da ottobre, probabilmente da settembre, non lo so metà settembre ottobre, mancano ancora due mesi Gesù, e quindi a partire da allora probabilmente il mio orario tornerà quello di prima, nel senso che probabilmente lavorerò soltanto le sere, e quindi se dovessi riprendere l'orario di prima, ovviamente la mia attività su YouTube ragazzi e su Twitch riprenderà come prima, quindi io vi chiedo scusa di nuovo se ho interrotto ragazzi le sere così proprio di colpo, le ho troncate così di colpo, quella su Silent Hill che tra l'altro mi stava piacendo tantissimo, quella su Ori che mi stava facendo sclerare, ma che comunque sono ovviamente impaziente di continuare, quella su Amnesia non so manco se proprio la continuerò, insomma perché stavo dando la precedenza a Silent Hill e Ori, insomma quando ragazzi ritornerà tutto come prima, ritornerà tutto come prima anche su YouTube e su Twitch, per questo che tra virgolette vi chiedevo ovviamente di aspettarmi, sempre se vorrete aspettarmi, e sempre se insomma attenderete il mio ritorno qua su YouTube, non crediate insomma ragazzi che non mi manca insomma fare video, fare live, anche se appunto ultimamente è sempre stato insomma da diversi mesi a sta parte ragazzi è stato un periodo un pochettino strano, perché comunque ho introdotto Twitch e quindi questo ha un pochettino fatto sbarellare anche la questione di YouTube, quando probabilmente ragazzi tornerò al regime di prima dovrò un attimo pure riorganizzarmi la questione Twitch e YouTube, sicuramente dovrò riorganizzarla meglio perché ultimamente stavo dando l'immensa priorità a Twitch ovviamente, però probabilmente per questo ho tralasciato un pochettino troppo YouTube, quindi non so, dovrò riorganizzarmi sicuramente meglio ragazzi, quindi che dire io penso di avervi detto già tutto e vi chiedo scusa come sempre per l'immensa lunghezza di questo video, non pensavo insomma sarei stata qua a parlare 20 minuti, ma come sempre poi c'è uno stream of consciousness ragazzi di cui io vi devo assolutamente parlare, insomma che devo assolutamente far uscire fuori, quindi io ringrazio chiunque sia arrivato fino alla fine del video, mi mancate tanto poi tra l'altro ragazzi, non mi stavo dimenticando di dirlo ma l'ho lasciato per ultimo ma non meno importante, mi mancate tanto ragazzi, io spero che anche io vi manchi un pochettino, comunque come sempre vi invito a seguirmi sui social tipo Instagram, Telegram, attualmente sto usando solo ed unicamente Instagram effettivamente, però se volete ragazzi non so contattarmi, scrivermi un messaggio ogni tanto, chiedermi come va, come non va, scambiare quattro chiacchiere ovviamente, poi appena un attimo cerco sempre di rispondere messaggi, di solito vi invito sempre a seguirmi su Instagram, trovate tutti i link in descrizione, per cui niente, grazie ancora a tutti ragazzi per la pazienza, e mi sembra brutto dover chiudere il video perché non voglio, insomma non vorrei lasciarvi però, che dobbiamo fare? aspettiamo insomma che anche questo periodo passi, niente ragazzi vi voglio un mondo di bene, ve si ama e ci sentiamo presto, ci aggiorniamo, un bacione a tutti ragazzi, ciao!